Un programma molto ambizioso, non vinceremo tutte le sfide, saremo troppo presuntuosi, però senza una sana e misurata ambizione non si va da nessuna parte. Così il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nel presentare il programma del suo governo. In apertura dei lavori, i cinque consiglieri supplenti, che sostituiranno quelli nominati in Giunta, sono entrati ufficialmente nel Consiglio regionale d'Abruzzo, anche se ufficialmente lo faranno solo dalla prossima seduta. Presidente Marsilio, ha sottolineato lei un programma molto ambizioso, guai se non fosse così, però concreto per realizzare cose importanti per la nostra regione. Sì, è certo, non è che si può iniziare una legislatura regionale senza avere progetti ambiziosi e obiettivi importanti da raggiungere. D'altronde è quello che ci chiedono i cittadini, perché l'Abruzzo non è una condizione di normalità dove basta un po' di ordinaria amministrazione e di buona manutenzione per far funzionare le cose. Qui servono interventi strutturali molto profondi e quindi bisogna avere l'ambizione di raggiungere quei risultati e di recuperare qualche decennio di ritardo che si è accumulato con il passato. Ecco, lei ha ricordato proprio i saldi negativi della passata legislatura. Sì, perché a fronte di chi rappresenta il centro-sinistra che ha governato fino al mese scorso e torna in aula a dire che i conti sono a posto, che l'economia va bene e tutte queste rappresentazioni irrealistiche naturalmente si risponde con i numeri. I numeri crudi dicono che c'è stato un aumento di disoccupazione, chiusura di aziende, arretramento del prodotto interno lordo, della crescita della regione. Quindi è chiaro che dobbiamo assolutamente invertire la rotta. Giovanni Legnini, nel discorso programmatico del Presidente Marsilio, tanti buoni propositi, però entrando nel dettaglio? È un'occasione mancata, perché neanche in questa occasione abbiamo avuto la possibilità di appurare che cosa vuole fare questo nuovo governo regionale al cospetto di emergenze, di urgenze, di problemi che segneranno il destino della comunità regionale. Genericità di posizioni che non hanno consentito una presa di posizione netta nel merito da parte nostra, perché di fronte alla genericità è difficile distinguersi o controproporre. Un elenco, come lei diceva, di buoni propositi. Noi abbiamo le nostre idee, abbiamo le nostre proposte, sono molto dettagliate anche nel nostro programma elettorale. Aspettiamo un altro po' e dopodiché ci faremo carico noi di avviare le iniziative corrispondenti agli interessi degli abruzzesi, dal nostro punto di vista ovviamente. Intanto il centro-sinistra sta definendo gli atti da presentare nei ricorsi elettorali i cui termini scadranno il prossimo 25 marzo. Lo dobbiamo ai nostri elettori. Come si può consentire che un percentuale di elettorato del 31,5% si vede attribuire 5 consiglieri e una del 20% si vede attribuire 7 consiglieri. I principi costituzionali basilari, elementari, di rappresentatività, di uguaglianza del voto chiediamo che vengano rispettati, lo chiederemo al giudice amministrativo e in via subordinata, ove necessario, chiederemo di sollevare la questione di costituzionalità di una legge mal fatta.